Qualche giorno fa di mattina, mentre camminavo nel bosco foresta di vincigliata e intorno la brezza faceva frusciare i pini e i quercioli e le cicale frinivano moltissime e lontano affiorava qualche clacson e i miei sandali cercavano i passi in discesa sul sentiero, improvvisamente mi è squillato nella tasca il telefono, tono tenue, cri, cri. Ho risposto, era il critico Massimo Marino che mi segnalava l'intervista a Mimmo Cuticchio apparsa sull'unità, ma per gli alberi sentivo male e ho detto compro il giornale, leggo e ti chiamo e lui sì, poi ho pensato quasi subito, cicale, aria e vento, fruscidi, alberi, passi, clacson, trillo del telefono, voce mia e voce da lontano come quella di quei danzatori filippini. Vedete, sono dei danzatori di un corpo di ballo siamese che sono venuti a fare le prove per debuttare sul teatro del mare di un velliero di Sandokan di Montpracem. Ecco, voce mia e voce da lontano sono tutte narrazioni e ascoltarle è la metà del racconto. Cari amici, e lì c'erano burattinai, allora stimati cantastori e contisti, pupari, poeti, attori e narratori, folisti e burattinai, disegnatori, pittori, costruttori, manovratori, gente del teatro e no, studiosi appassionati. Piano piano sono andato imparando che il mondo è fatto di cose, tempo, esseri viventi, sogno e voci che dicono una presenza. Voci. C'è chi racconta meglio e chi peggio, chi ha duende e chi no, come dice l'orca. Ma oggi voglio parlare per un momento delle voci quotidiane e umili che, insieme a quelle alte dei poeti e narratori, tengono vivo il tessuto delle chiacchiere, ciacque, tucciat, ciattare, senza cui grandi racconti e canti non esisterebbero. Le chiacchiere sulla porta di casa, nelle botteghe, al telefono, i dialoghi degli innamorati, le liti, il mormorio dell'acqua affascinato dalla gravità, il fruscio dei fiori che si aprono, il battito delle ali di una farfalla o il suo silenzio immobile sul fiore, il ronzio delle api e tutti i rumori, suoni e apparizioni che possiamo chiamare voci in quanto evocano e invocano. Vento, fiato, respiro, che storia è quella del vento, animus e spirito, anima luogo del respiro, mantice e zampogna, soffio di ciò che ha vita e di ciò che sembra non averne, come la luna e le galassie con le loro piroette e venti cosmici. L'antica, antichissima parola semita, il sentiero, la via, non si sa precisamente nella radice cosa significhi. Ma come parola intera avrà voluto indicare, credo, quei sentieri appena nati, per la prima volta tracciati, quando i popoli si spingevano in cerca di bestie, acqua, calore e stelle. Indo-europei e no, nottambuli guerrierissimi, impauriti dai draghi e spesso loro preda. Eremiti coraggiosissimi, ingrotte piene di insetti circondate da leoni e serpenti, abitatori di foreste estese dappertutto e di sboscatori, a scopo di fare radure per coltivare, pascolare, fare recinti, capanne e fuochi. Loro sì che per quei sentieri da formiche, in gruppi sempre aggrediti e sempre aggressori, imparando a mettere talvolta l'amore e la poesia d'amore, accanto alla violenza e allo sterminio e il benestare, accanto alla fame, alla peste e alla vita corta, coi denti malandati e le sciancaggini mal curate, i bambini morti nascendo e le madri sconquassate dai parti, gli assalti per rubare donne, bambini, animali e mangiarseli. Loro sì che ne avevano di cose da raccontare. Per esempio che c'erano luoghi dove non bisognava entrare e che avevano visto mostri con sette teste e cento occhi e fuoco in bocca, e maghi malefici e benefici, e ladroni con la clava o la schioppa, e donne grasse e bellissime, nude, culone, destinate a fare cento figli. Me li figuro quando verso notte accendevano il fuoco, là dove due o tre sentieri si aprivano in radura, lucus, luogo più chiaro di luce, tempio, e seduti carneggiando con qualche brodo di castagne o fagioli e ranocchi o minestre di amarumi circondati da bestie che aspettavano gli ossi, ma anche per la prima volta nel corso dell'evoluzione, storie di cui non capivano niente anche se parlavano di loro in lingua di Neandertal o di Homo sapiens, storie che gli faceva piacere sentire, perché così si sentivano in compagnia di quello strano essere, animale anche lui, con tante parole rispetto a tutti gli altri abitatori del mondo, con quella bocca non tanto grande, ma tanto divoratrice e chiacchierona. Ecco, me li figuro così i sentieri dei racconti e quelle radure o cime di monti, dove forse vennero tirate su pareti di capanne e tane di affetti, con pentole e reliquie, discorsi, chiacchiere, ti ricordi? Mi ricordo, me li figuro come i germi del luogo dove ci troviamo ora, noi bestie che ci facciamo domande sul senso del narrare. Contami una storia, tienimi vivo, dimmi come stai. Così, secondo me, dice il pensiero all'anima, sempre piena di sete e di respiro. Tienimi vivo, tienimi sospeso nel vento, in suspense, l'ha sospeso sul grande abisso dell'universo che respira e si espande, sospeso di curiosità. E tu non mollarmi, dice l'anima al respiro, ti prego che in questa notte non ci vedo chiaro. Chiara, invece, è la notte, con un po' di vento, quando la voce fa sentire il vagito, l'invocazione che vaga in cerca della madre, la madre dei racconti. Sono qui, ascoltami, dice lui. Sta calmo, ascolta, dice lei. Ninna nanna, ninna o, nanabobò. Così, la madre narra al suo bambino sveglio e impaurito il mistero dell'andare e venire, dei quattro cavalieri e della memoria. Memoria, la fonte a cui tutti bevono. A partire dal su e giù delle ninne nanne, su per il fruscio della linfa e lo svelarsi dei paesaggi e per le corse avanti e indietro di tutto, per l'immobilità apparente dei sassi e la mobilità della luce, è un continuo svelamento. Di sentiero in sentiero, sentendo, guardando la bellezza delle diversità, i milioni di lingue che gli insetti, le erbe, le stelle, gli uomini parlano per tenersi presenti. Tutti frammenti di un discorso immenso, finito e infinito, come il sistema dei numeri, logos a cui tutto appartiene, per cui a volte mi viene da tradurre quel famoso inizio del Vangelo di San Giovanni così. In principio c'era un grande racconto, racchiuso in un nucleo infinitamente denso, che poi si è aperto in mille discorsi, vene, arterie, sentieri, vie. E in ogni vena o sentiero c'è la forma del grande racconto. Il grande racconto così si è incarnato nelle voci, nei corpi e nelle cose, in tutti i corpi e cose esistenti, dappertutto. E tutto, anche nei luoghi più lontani e muti, è sempre Lui il racconto, numero e favola. Sapienza umile, che si svela in ogni apparizione e presenza, infinitamente numeroso, sentiero che non finisce come i numeri mai. E' così. Grazie. Grazie.